Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Credo che sia necessario un secondo contenuto di giornata perché ho visto che comunque il primo video è andato molto bene ma ci sono alcune cose che mi piacerebbe chiarire insieme a voi. Sarà strutturato in tre parti questo video nel quale risponderò a una domanda o comunque a, non dico provocazione, ma comunque una curiosità che sto comunque leggendola tanto nei commenti, un commento a una notizia che abbiamo avuto vera e propria oggi e una correzione perché ho fatto un passo falso, tra virgolette. Mi sono sbagliato e ammetto il mio errore, me l'avete fatto notare nell'ultimo video e solitamente a me piace molto quando c'è questo tipo di interazione, non ho problemi ad ammettere degli errori quando poi sono così evidenti e è giustissimo fare un passo indietro. Ed è vero, effettivamente parlare di casa dei non aveva il minimo senso logico all'interno delle operazioni perché come mi ha fatto notare qualcuno, se un matto vuol venirmi a comprare un giocatore spendendo la cifra che vuole non c'entra assolutamente niente anche se l'Inter poi è andata a vendere ad un prezzo sicuramente più elevato rispetto al loro giocatore. E' vero, sono d'accordo, chiedo scusa, non avevo neanche intenzione di fare una sorta di confronto per quanto riguarda giocatori di altre squadre, mi è passato per la mente lì per lì perché è stato uno degli ultimi casi clamorosi di valori gonfiati sul mercato, anche se comunque il Chelsea ha pagato denaro contante, non c'è stato un vero e proprio scambio di giocatori e quindi non c'entrava assolutamente niente. Però proprio per cercare di spiegarvi cosa intendevo con quell'uscita ho voluto cercare un pochino di operazioni, dato che tra il 2021 e il 2022 la procura di Milano ha indagato su alcune plusvalenze realizzate tra il 2017 e il 2019 proprio dall'Inter. Ci sono delle operazioni come Colaro Mazzagnolo valutato 4.2, Santon valutato 9.5, una plusvalenza di 10 milioni complessiva per questi due calciatori, in cambio di Nainggolana 39.2. O quella col Valencia, quindi Murillo valutato 12 milioni, plusvalenza di 5.3 e per Condogbia valutato 25, a cui dobbiamo anche aggiungere Cansello che non è stata un'operazione collegata a questa, è stato un prestito e quindi non è stato un vero e proprio scambio. Qualcuno potrà dire sì, però qua ci sono stati anche degli esborsi economici in cui comunque l'Inter ha tirato fuori i soldi ed è vero che un po' l'idea che è stata fatta, mi viene in mente il primo, è stato appunto Artur Pjanic, dato che la Juventus poi ha comunque tirato fuori i soldi per coprire quella parte crema ne va fuori. Ce n'è stata una con l'Atalanta, Bettella valutato 7 e Carraro valutato 5, 11 milioni.5 di plusvalenza per scalare a Bastoni valutato 31, una con il Genoa, Pinamonti valutato 19 in cambio di Salcedo, 8.5 con 19 milioni di plusvalenza di Pinamonti, poi riscattato dall'Inter. Col Parma, Adorante valutato 4 milioni, 4 milioni di plusvalenza per Brasao, 6.3, una col Sassuolo, Sala valutato 3 milioni, per Politano valutato 21, una col Pescara, Zappa valutato 3 milioni, 3 milioni di plusvalenza per Gravion valutato 6.1. Non è una volontà di mettere qui e dire cazzo l'Inter è colpevole perché ha fatto questa roba, anche perché poi l'Inter è stata assolta, si è concluso con l'archiviazione, non ci sono stati motivi per andare a pensare che l'Inter avesse cercato di migliorare il bilancio, modificare il bilancio con queste operazioni. Secondo me è anche normale che sia così, eppure mi rifiuto di pensare che Adorante, Sala, Zappa, Bettella, Carraro, lo stesso Zagnolo quando è uscito che non aveva mai giocato in Serie A potesse valutare 4, 5, 6, 7, 8 milioni di euro. Sicuramente lì l'intento dell'Inter è stato quello di cercare di inserire a bilancio un valore quanto più elevato possibile per questi calciatori, proprio per cercare di coprire con le plusvalenze qualcosina a livello di bilancio. Ma lo dico nella maniera più disinteressata possibile, credo che l'Inter abbia fatto benissimo a fare una roba del genere perché lo può fare, e l'ha sempre potuto fare. Ho trovato anche un articolo nel 2016 che parla del Milan, di calcio e finanza, che dice che dal 2007 al 2015 le due squadre hanno effettuato, Genoa e Milan, transazioni in uscita verso il Milan che hanno riguardato ben 17 giocatori. Il presidente Preziosi ha incassato complessivamente 129 milioni di euro in 8 stagioni, una media di 14,3 milioni all'anno e plusvalenza addirittura per 78,12 milioni. Si tratta del 24,62% dell'ammontare complessivo delle plusvalenze genuane nel periodo indicato. La più importante è quella relativa al trasferimento al Milan di Stefano e Sciaraui, 19,77 milioni, contabilizzata nel bilancio del club Ligure il 31 gennaio del 2011. Poi ci sono quelle da 12 milioni per l'accessione al Milan al difensore greco Socrates Papastadopoulos, nell'articolo già scritto oggi al Borussia Dortmund, bilancio 2010 del Genoa. E' quella di Simic, difensore classe 95, acquistato dal Diavolo nell'agosto 2013 per 10 milioni, generando una plusvalenza sui conti del Genoa di 9,5. Quella di Simic addirittura è stata a plusvalenza superiore a quella del bilancio 2008 per l'acquisizione da parte del Milan di Marco Boriello, 11,8 milioni, il prezzo del cartellino 9,1 milioni a plusvalenza. Ma è inferiore a quella dei 15 milioni realizzata dal Genoa grazie all'accessione del 100% di Andrea Bertolaccio alla Roma per 17 milioni, che ha poi preveduto a girare al Milan per 20 milioni. Cosa vuol dire questo? Che comunque ci sono state e ho trovato anche una tabella di plusvalenze tra Milan e Genoa e tra Inter e Genoa, perché io me le ricordo bene quei tempi in cui comunque le milanesi avevano col Genoa questa sorta di patto di mercato in cui continuavano a scambiarsi i giocatori, continuavano a proprio mettere anche magari alcuni giovani nel pacchetto per arrivare a giocatori importanti come Milito, Tiago Motta, lo stesso Ranocchia. Ora, magari non tutti poi questi valori sono azzeccati al 100%, però guardate quante operazioni ci sono state tra Genoa e le squadre milanesi. E ragazzi, se qualcuno mi fosse venuto a dire il Genoa ha creato un sistema con il Milan, il Milan ha creato un sistema col Genoa, l'Inter ha creato un sistema col Genoa, a me sarebbe semplicemente venuto da ridere, perché sono sempre stati comunque scambi tra due società che applicavano qualcosa che si poteva fare. E non venitemi a dire che il Genoa, il Milan o l'Inter in quelle occasioni non hanno tentato di gonfiare i valori di determinati giocatori. Che non ci credo, semplicemente non ci credo. Poi è la mia opinione. Magari è stata fatta completamente in buona fede per il Milan, l'Inter e il Genoa, quei giocatori valevano quelle cifre lì. Magari sì, non è questo il punto. Poi la mia opinione è sacrosanta e finisce lì. Secondo me le hanno fatte sempre con l'idea di sistemare i bilanci. Quindi sono valutazioni fittizie? Per me sì, come magari sono state quelle della Juve. Però da qui a dirvi che il Milan, l'Inter e il Genoa per quelle robe lì meritavano dei punti di penalizzazione perché avevano creato un sistema o l'Inter con le plusvalenze che vi avevo elencato prima ha creato un sistema per modificare e gonfiare, alterare i campionati. Ragazzi, a me sembra una follia. Mi sembra una follia. Vogliamo punire queste squadre con l'articolo 31? Si fa una multa. Che è quello che preme a me spiegare della situazione. Non si parla di Juventus che, mamma mia, candida, linda, innocente. Non è questo il punto. Non è questo il punto. Io credo che la Juventus abbia fatto tanti errori, tantissimi. Secondo me qua parte la seconda parte del ragionamento. Cambiamo un attimino. Perché qualcuno continua a dirmi ma invece che essere incazzato per quello che vi sta succedendo e con le sentenze e la giustizia ma perché non vi arrabbiate con i vostri dirigenti? Ma attenzione ragazzi, ma io credo di averlo anche già detto in più di un'occasione ma è ripetita Juventus. Io sono arrabbiatissimo con i dirigenti della Juve. Io sono arrabbiatissimo con i dirigenti della Juve. Perché degli errori ci sono stati. Ed è inutile prendersi in giro. Inutile stare qui a prendersi in giro e dire no, sono stati bravissimi, sono stati fantastici, sono stati impeccabili. E gli errori ci sono stati. Degli errori ci sono stati ed è evidente la Juventus è passata ad essere una squadra che tutti gli anni continuava a vincere il campionato, ad essere una squadra che poteva essere gestita, ad essere una squadra che è implosa completamente. Essere una squadra costretta ad alleggerire i bilanci perché se sono stati fatti degli errori di scelta, di programmazione, di quello che volete che hanno portato poi la Juventus a diventare una squadra normale o comunque una squadra con un monte in gaggi comunque più alto in Italia anche oggi ma che poi sul campo non era in grado di. Io sono molto arrabbiato con i dirigenti della Juventus, molto. Però se devo dirvi che sono arrabbiato con i dirigenti della Juve perché si è arrivati ad avere dei punti di penalizzazione per le plusvalenze allora io vi devo dire una bugia. Non riesco a incolpare i dirigenti della Juventus per questa cosa qui delle plusvalenze. Non ce la faccio. Perché allora avremmo dovuto prendercela anche con i dirigenti dell'Inter che hanno fatto quelle plusvalenze che aveva senso fare, quelle del Milan che le hanno fatte con il Genoa, quelle del Genoa e quanti altri. È come dirmi che è giunto lì nell'affare Osimè dove sono stati inseriti dei giocatori per scontare la valutazione di Osimè con Lille e sono stati comunque attribuiti anche lì dei valori gonfiati è da criticare perché quell'operazione Lille non la doveva fare l'ha fatta per cercare di guadagnare cioè non ce la faccio a dirvi questa roba qui. Io non ci riesco. Per me i dirigenti della Juventus hanno sbagliato in una miriade di occasioni. Ho fatto più di una volta un video in cui vi spiego tutti gli errori della dirigenza e anche vedere sinceramente che la Juventus non rilascia uno straccio di presa di posizione dopo la pubblicazione delle motivazioni di ieri sera mi delude tantissimo mi delude tantissimo perché continuare a vedere che pubblicano roba come se niente fosse accaduto sui social da fastidio non dico che non debbano pubblicare però uno straccio di comunicato stampa da mettere sul sito riportato poi da qualche parte quello me lo sarei aspettato una presa di posizione che non c'è. Poi io ve l'ho sempre detto secondo me sul fronte stipendi non si sono mossi bene ci sono delle cose che non mi tornano anzi ci sono delle accuse molto forti sul fronte stipendi che poi sfociano nel processo penale che ci sarà da cui arrivano le intercettazioni che poi hanno fatto sfociare nell'articolo 4 piuttosto che il 31 perché si è fatto un processo sportivo utilizzando degli elementi di un processo ordinario questo che dà fastidio è questa cosa qui che dà fastidio magari avessero intercettato i dirigenti di tante altre squadre anche loro avrebbero detto sì stiamo gonfiando i valori ma perché è stata una pratica che è sempre stata utilizzata in Italia questa è la cosa che sinceramente mi destabilizza della situazione e devo dire la verità non posso dire una cosa che non penso mi destabilizza questa cosa perché sono convinto perché ne sono convinto che tutti i dirigenti in Italia che hanno fatto questo tipo di operazioni negli anni le abbiano fatte con la volontà di gonfiare i valori dei giocatori che andavano a scambiare con altre per cercare di creare dei rapporti di amicizia tra le società per cercare di aggiustare e migliorare i bilanci ma perché di questo ne sono convinto allora devo dirvi che per queste cose qua hanno sbagliato non ce la faccio però se devo dirvi che leggo che magari hanno fatto delle false fatture che magari degli stipendi hanno dichiarato pagati come no per poi semplicemente fare una sorta di evasione fiscale che hanno utilizzato dei metodi come quello degli stipendi per generare aggiotaggio e ragazzi se verranno fuori queste cose qui e se verranno confermate queste cose qui queste sono cose gravissime ed è questo certo che me la prenderò con i dirigenti e mi arrabbierò perché queste sono cose sono errori extra campo cioè sono errori proprio concettuali questi sono errori da matita rossa ma oggi non ce li abbia alle conferme su queste cose oggi il processo è incentrato sulle plusvalenze e sulle plusvalenze questo è quello che penso della situazione della questione poiché ci sono stati degli errori decisionali negli anni ragazzi ma chi segue questo canale se ne ricorderà dei video in cui abbiamo parlato di ste robe che poi sono degenerate dal punto di vista sportivo sono incazzatissimo per queste cose qui ma se devo dirvi che sono arrabbiato con Agnelli con Paratici con Cherubini con Eriva Bene perché magari hanno scambiato dei giocatori con altre società anche pensando che questi giocatori non valessero quelle cifre a me sembra semplicemente la normalità di quello che ci ha mostrato il sistema calcio negli anni è giusto? probabilmente no probabilmente no e sono d'accordo con voi però non c'è nemmeno un regolamento in questo momento che ti vieta di farlo e non puoi dirmi che dato che abbiamo delle intercettazioni e da queste intercettazioni magari si capisce che i dirigenti di Juventus avessero valutato di più rispetto all'ora reale allora arrivo ai meriti dei punti di penalizzazione secondo me non mi smuovete da questa cosa è inutile descrivere quello che volete ma questa cosa qui per me non ci sta ripeto fossero stati dei punti di penalizzazione per la questione di stipendi in cui mi si dimostrava che false fatture aggiottaggio fatture in nero pagamenti in nero sarei stato il primo e sarò il primo perché comunque siamo ancora all'inizio a dire oh ragazzi c'è poco da girarci intorno cioè se ci hanno dimostrato sta roba qui c'è la star zitti accettare la penalizzazione fine discorso plus valenze per le motivazioni per quello che è stata la punizione e per anche i precedenti che ci sono stati in tutte le squadre del mondo io su questo ragazzi non ce la faccio cioè non posso dirvelo non ce la faccio non ci riesco quindi questa è un po' la mia disamina per concludere la curva dell'Atalanta è stata chiusa e vi voglio far leggere le motivazioni del giudice sportivo che dice considerato che come segnalato dal rapporto ai collaboratori della procura federale sostenitori della società Atalanta occupanti il sistema denominato curva Nord Pisani levavano il 46esimo 47esimo 53esimo e 54esimo nel secondo tempo cori beceri insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore associato Juventus Duzamlaovic considerato altresì che nel suddetto rapporto i collaboratori della procura federale dichiaravano che tali manifestazioni gravi manifestazioni di discriminazione razziale percepite da tutti e quattro rappresentanti della procura federale dislocati nelle varie parti dell'impianto proverivano fino all'80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore denominato curva Nord Pisani e quindi che cosa significa trotto in parole povere li hanno sentiti e per questo chiudiamo la curva perché ci sono stati questi cori razzisti però vi chiedo è questo il modo di combattere perché dice sì l'80% del settore era 9.000 della serie sia mica a punir di tutti come facciamo è complicato sono tante persone allora delle due sai cosa facciamo chiudiamo la curva per un turno però il punto qual è cioè ancora una volta il punto è punire la società atalanta chiudendo la curva o cercare di migliorare come paese nella lotta al razzismo dato che comunque è stato confermato anche dal procuratore che che c'è stata qualcosa ci sono stati dei cori di discriminazione razziale ci sono stati confermati lo sanno e per questo chiudiamo la curva ma questo migliora qualcosa no questo semplicemente tiene chiusa la curva dell'Atalanta per una partita e la partita successiva quell'80% dei 9.000 presenti quell'80% che ha fatto dei cori di matrice razzista continuerà la prossima volta a fare dei cori di matrice razzista nei confronti di altri calciatori perché tanto al massimo chiudono la curva per un'altra volta cioè vogliamo lottare contro il razzismo o vogliamo semplicemente metterci una pezza l'ammunizione tolta a Lukaku non vale niente non vale niente nella lotta al razzismo i 171 d'aspo si se mi tolga l'ammunizione a Vlaovic non mi vale niente nella lotta al razzismo se mi chiudo la curva dell'Atalanta non mi vale niente nella lotta al razzismo se di quei 9.000 l'80% invece mi li d'aspi si perché chiudere la curva e poi riaprirla alle stesse persone cambia niente semplicemente metti un po' di polvere sotto il tappeto e vai a posticipare il problema che si ripresenterà perché queste persone continueranno a farlo l'altro giorno mi apparso un ragazzo su TikTok che mi ha scritto un commento del genere io sono uno che va in curva ti fa juve un ragazzo che ti fa juve io vado in curva e un mio amico è stato daspato per colpa di Lukaku no attenzione tuo amico non è stato daspato per colpa di Lukaku tuo amico è stato daspato perché probabilmente si è rivolto a Lukaku con epiteti poco simpatici ha discriminato Lukaku non è che è stato daspato per colpa di Lukaku la colpa è del tuo amico che sicuramente se è stato daspato è per un motivo legato a Lukaku la colpa non è di Lukaku la colpa è del tuo amico cioè a me sembra che si perda di vista il focus della questione come una banalità riferita appunto alla sentenza che è la volontà di punire la juve o di far giustizia allora vogliamo lottare contro il razzismo o semplicemente far vedere che facciamo qualcosa per a me sembra sempre che si guardi il dito invece che la luna in queste situazioni però magari sono strano io non lo so fatemi sapere un po' la vostra quest'altro nei commenti ci tenevo a chiarire questi due tre punti soprattutto i due principali che erano chiarimento del video di oggi il terzo invece era un punto abbastanza inedito e spero che abbiate capito la mia presa di posizione poi ragazzi come al solito mondo è bello perché vario ognuno ha diritto ad avere la sua posizione la mia è questa la vostra è diversa pace amore ci vogliamo bene però non posso fare altro che riportarvi quelli che sono i miei ragionamenti le mie opinioni un abbraccio a domani